La pubblicità che è stata proposta dalla Lega, quella sostanzialmente che denuncia nel nostro paese la presenza di persone di religione islamica come un fatto grave e che ci pone come o islamizzati o terrorizzati, credo che qui siamo proprio in un ambito di sottocultura di chi propone questo tipo di concetti. Il quartiere Reno purtroppo ha l'occasione di ospitare su un manifesto pubblicitario, su una strada del nostro quartiere, questo tipo di messaggio che definire politico è secondo me degradante e credo che sia corretto e opportuno esprimere il nostro forte dissenso rispetto a una comunicazione politica fatta in questi termini che va a ledere non solo quello che è un tentativo di avere una convivenza serena rispetto a una multiculturalità che nel nostro paese è di fatto qualcosa di positivo da sempre e che andrà verso sempre più un processo di integrazione. Questo tipo di messaggi sono dannosi sia per chi è oggetto di questo riferimento che ripeto è qualcosa di osceno a mio modo di vedere e sia anche per le persone che lo vedono e passano in quei dintorni, penso a qualche bambino che possa fare domande intelligenti a un genitore a come si può proporre una spiegazione rispetto a una proposizione di un tema di persone che hanno un'altra religione o che sono di un'altra cultura e che quotidianamente incontriamo nei supermercati, nelle scuole, in quello che è il nostro vivere quotidiano con cui collaboriamo, i nostri vicini di casa. Questo è di fatto. Noi al quartiere Reno da sempre abbiamo una politica che tende all'inclusione di tutte le diversità. Le diversità sono una ricchezza, per noi è un punto di snodo della nostra politica e su questo continueremo a lavorare. Per cui censuriamo questo tipo di pubblicità, non abbiamo strumenti per poterla evitare ma sicuramente una dichiarazione ferma di denuncia e di censura credo che sia opportuna e assolutamente necessaria.